A questo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare. Hanno continuato a crederci e a spingere. Alla fine sono riusciti a ribaltare il risultato, una grandissima prova di forza e carattere, di cui i loro tifosi saranno certamente fieri. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un ringraziamento a Luca Marcheggiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie. 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 Grazie.